Lo sbarco a Durazzo e l'arrivo a Tirana dei moschettieri del Duce che hanno trovato ovunque in Albania la più cordiale ed entusiastica accoglienza dalle popolazioni ammirate della marziale prestanza della fedelissima guardia del Duce. Dopo una rapida visita alla capitale Schipetara i moschettieri si sono recati a Petrela, località sovrastata dalla storica rocca dell'eroe nazionale Skandenberg dove si trovava ad accoglierli il luogotenente generale Su'Eccellenza Iacomoni al quale vedremo la popolazione di Scutari manifestare la sua riconoscenza e la sua devozione al Duce. Grazie a tutti!